Ancora novità per l'ospedale di Vallo della Lucania. Prende il via, infatti, Natale al San Luca, una iniziativa proposta direttamente dal direttore sanitario Adriano De Vita e dal direttore amministrativo Antonio Flavio Meola, che hanno voluto far sentire la loro presenza e vicinanza ai pazienti e ai familiari, oltre che agli operatori che saranno presenti presso la struttura vallese durante il periodo natalizio. E allora, chiamando a raccolta alcune associazioni e fornitori, l'8 dicembre è partito ufficialmente l'evento, inaugurata una mostra di presepi posti nel nuovo ingresso dell'ospedale, addobbato anche con un bellissimo albero e 50 stelle di Natale, poste lungo tutti i corridoi di accesso. Si prosegue l'11 dicembre a cura del CRAL dell'ex Asla Salerno 3, con un evento dedicato ai più piccoli, l'arrivo di Babbo Natale nel reparto di pediatria. Il 18 dicembre, sempre a cura della medesima associazione, si terrà in Aula Magna il tradizionale concerto di Natale, a cura del coro Vivat di Lentiscosa, diretto dal maestro Gaetano Toriello. Il 20 dicembre, a cura dell'Associazione Volontari Ospedalieri, è in programma Natale Accanto a Voi in ginecologia. Il giorno seguente, dalle 10 alle 13, a cura della Diusman Service, società che gestisce la fornitura dei pasti all'interno dell'ospedale, sarà installato un desk cortesia, dove verrà offerto panettone e pandoro a tutti. Alle ore 12 inoltre, il direttore sanitario e il direttore amministrativo proporranno un brindisi augurale. Gli appuntamenti proseguono nel 2019. Il 5 gennaio, a cura dell'Associazione Volontari Ospedalieri, è in programma Befanavo in medicina generale. Il 6 gennaio, a cura dell'Associazione Qui, Quo, Qua, è previsto Befana in corsia. Il 7 gennaio, infine, l'Associazione Volontari Ospedalieri e la Misericordia di Vallo della Lucania proporranno Befana in corsia nel reparto di pediatria.